parlare di fibromialgia è parlare di un argomento medico però prima di parlare di questo argomento sarebbe anche opportuno parlare di come si può esercitare come medico secondo il mio modo di vedere ci sono almeno due varianti il modo ipocratico che è quello che io preferisco praticare è il modo moderno che forse si è dimenticato di ipocrate entrambi i modi poi possono avere svolgimento differente ovvero utilizzare la scienza e la coscienza o utilizzare le statistiche, le tabelle clidimetriche e i protocolli cosa sia la statistica? penso sia cosa nota tutti e quindi vediamo che cosa è la clinimetria clinimetria significa letteralmente misurazione dei rilievi clinici un concetto tanto semplice quanto rivoluzionario la cui finalità principale è quella di garantire un'adeguata standardizzazione nella valutazione degli eventi clinici in campo reumatologico l'avvento della clinimetria ha consentito importanti progressi nell'approccio alle diverse problematiche cliniche e soprattutto nel monitoraggio dell'evoluzione di malattia e della risposta ai farmaci ma sui sacri testi cosa si dice ancora della clinimetria? anche se la clinimetria può apparire ostica non si può non ritenere che essa costituisca un antidoto essenziale alla babele terminologica e alla estrema variabilità generata da un approccio empirico e non ispirato a dei parametri di valutazione condivisi per l'infermiere specialista la clinimetria rappresenta un momento essenziale di approccio al paziente ovvero, con una tabella ben preparata l'infermiere si sostituisce al medico nella raccolta anamnestica che segue un percorso unico il sentiero tracciato da qualcuno che sa tutto o che qualcun altro pensa che sappia tutto e che è identico per tutti i pazienti i protocolli, che nel caso del covid hanno dimostrato causare danni enormi e non voglio citare la parola morti il ruolo dell'infermiere in questo settore è quello di essere un primo attore nella esecuzione dei diversi test clinimetrici di aiuto al paziente nella compilazione dei questionari di autovalutazione nella elaborazione e nella archiviazione dei dati utili sia per migliorare la qualità dell'assistenza sia per garantire una ricerca clinica sui parametri confrontabili e alla fine con l'intervento di un medico e di un computer anche la terapia ma se sappiamo cosa è la statistica vediamo cosa dicevano i miei sacri testi di analisi statistica per medici e biologi tratto dal libro di Luigi Cavalli Sforza questo fu un esame che diedi per non andare a militare ma che mi venne utile dopo essere diventato medico per capire cosa accadeva in medicina sul libro si legge quando usare il metodo statistico il metodo statistico è stato definito felice sussidio all'ignoranza umana vi ricorriamo di fatti per ottenere aiuto nell'analisi di situazioni complesse quando cioè l'estensione dei dati o la complicazione del problema impediscono di rendersi conto immediatamente dall'andamento di un fenomeno e si rende necessario sottoporre i dati medesimi a qualche genere di elaborazione le prime applicazioni del metodo statistico sono quelle che perseguono scopi esclusivamente descrittivi se si è raccolta una serie di osservazioni di un qualche carattere di interesse biologico in parecchi individui e i valori ottenuti sono diversi da un individuo all'altro si ricorre a qualche tipo di media per rappresentare sinteticamente le osservazioni naturalmente una media se può indicarci l'intensità tipica di un carattere non può dirci quanto diversi siano fra loro i valori individuali da cui essa è calcolata da quanto appena detto diventa facile capire perché non si può risolvere l'enigma della fibromialgia se chi la studia usa il metodo statistico e le tabelle clinimetriche tanto per capirci è il lavoro che fanno i sondaggisti ne avessero mai azzeccata una sto inseguendo la fibromialgia dagli anni 80 quando ero nell'istituto Bruzzone dell'Università di Genova assieme al professor Maurizio Cutolo che divenne presidente dell'Eolar e al professor Carlo Maurizio Montecucco che è direttore della reumatologia dell'Università di Pavia io ho usato un altro metodo che secondo me è il vero metodo scientifico metodo in cui la statistica entra quando non hai più nessun'altra arma da utilizzare e dove è necessario usare il ragionamento cercando sempre di allenarlo il ragionamento con la statistica e la clinimetria anche un idiota può parire genio e vorrei ricordare una frase che mi disse il mio povero padre quando volevo smettere di studiare medicina perché era noiosa e non c'era molto da capire c'era quasi da studiare memoria mi diceva mio padre anche un idiota se studia può laurearsi in medicina e questo è chiaro va bene per chi ha memoria ma io di memoria non ne ho mai avuta tanta purtroppo quando mi laureai disse mio padre che da quel momento c'era un idiota in più laureato ma che quell'idiota a quel punto lì avendo la responsabilità della vita e della salute degli altri doveva imparare a diventare medico oggi la scienza moderna ha superato il senso comune e genera una immagine di mondo abitato da forme oggettive contrapposta al mondo soggettivo dell'esperienza comune la conoscenza scientifica viene contrapposta all'esperienza di vita e forse questa conoscenza pensa solo di conoscere senza realmente conoscere nell'intimo fenomeni che ad altri livelli mostrano realtà opposte a quelle esaminate dalla scienza del momento questo è il caso della contrapposizione biochimica-biofisica e queste due materie che sono espressioni opposte dalla stessa realtà vanno per forza integrate per vedere il totale del sistema a cui apparteniamo il sapere è dato dalla conoscenza che dipende dalla voglia di conoscere e dagli strumenti disponibili per vedere la realtà che si allarga a dismisura nell'infinitamente grande ma anche nell'infinitamente piccolo e oltre a questo questi strumenti bisogna andarli a cercare se non si trovano particolari lesioni e il dolore è il sintomo principale localizzato nel muscolo che però risulta sano ma se si siuscita già pizzicando la pelle perché è malattia reumatologica e non dermatologica o neurologica e perché non si vanno a indagare anche altri livelli oppure è stato fatto ma le varie specialità non comunicano più tra di loro poi se si usano linguaggi per solo addetti ai lavori come possono comprendere i poveri pazienti? La fibromialgia è una malattia? È di competenza reumatologica? No, è una sindrome Vediamo un attimo Malattia o patologia è una condizione anormale di un organismo causata da alterazioni organiche o funzionali che compromettono la salute del soggetto Sindrome è un complesso insieme di sintomi che possono essere provocati dalle cause più diverse Sintomo È una manifestazione di uno stato patologico avvertita soggettivamente dal malato che va distinta dal segno che è rilevabile dal medico durante l'esame obiettivo La fibromialgia viene identificata invariabilmente sia come malattia e come sindrome Sono la stessa cosa? O sono due cose? Oppure più cose diverse? Si riconoscono 5 categorie di sindrome dolorose reumatiche suddivise secondo criteri fisiopatologiche e che sia dolorosa siamo tutti d'accordo Sindrome dolorose infiammatorie meccaniche da compressione nervosa Sindrome dolorose simpatico-riflesse e sindrome fibromialgiche Quindi per la reumatologia le sindrome fibromialgiche sono sindrome dolorose croniche muscoloscheletriche ma non solo caratterizzate da dolore diffuso in assenza di sinovite o miosite È già qui il primo interrogativo Ma siamo sicuri che siano semplicemente muscoloscheletriche? Da quando la fibromialgia ha questo nome? Nel 1992 un gruppo di ricercatori ha pubblicato la dichiarazione di Copenhagen che è stata adottata dall'OMS che ha riconosciuto poi la fibromialgia come malattia aromatica nel 1993 proprio in quell'anno io ero là Quell'anno l'Under 21 italiana vinse il campionato europeo di calcio a Malmo, Svezia in faccia a Copenhagen dove si svolgeva anche il 24esimo congresso scandinavo di reumatologia mentre a ringostare il batterista dei Beatles teneva un concerto nella capitale danese Dalla dichiarazione di Copenhagen parte tutto anche se quella, come oggi, è una valutazione clinimetrica convenzionale Per mettere d'accordo il mondo medico si decide di risolvere il problema dando un nome unico ai pazienti che potevano ricoprire i requisiti necessari e pertanto venne stabilito che una volta che sono state eliminate le possibilità di altre malattie tramite il dossier medico e si può fare la diagnosi fondata su due principali sintomi Uno, un dolore diffuso e risentito da più di tre mesi accompagnato da due Un dolore risentito alla pressione di almeno 11 dei 18 punti sensibili alla localizzazione caratteristica punti di diagnosi, i famosi tender point Il tutto era fondato su sintomi e non su segni perché di segni non ne furono trovati per cui doveva essere necessariamente una sindrome Poi ci si dimenticò anche del dover escludere la possibilità di determinare quei sintomi da parte di altre malattie E come per la statistica si era trovata una soluzione per una situazione complessa con assenza di dati in cui la complicazione del problema impediva di rendersi conto immediatamente dell'andamento del fenomeno proprio come per la statistica che è un felice ausilio all'ignoranza umana Facciamo un bel saltino temporale Mente aumenta il numero di fibromialgici nel mondo e crescono associazioni a difesa di questi pazienti magari gestiti per altri scopi per poter ricevere sovvenzioni o qualche 5-8 per mille con presidenti inammovibili nei secoli dei secoli e unti direttamente dal signore col fiorire anche dei rimedi miracolosi per assenza di valida terapia arrivando persino, come fa ancora oggi il professor Bauer a proporre quattro interventi chirurgici agli epicondili dei gomiti e alla regione della zampadocca delle ginocchia Pesanserino, termine più medico arriviamo al 2007 Congresso EULAR di Barcellona L'EULAR riunisce a livello europeo tutte le società scientifiche nazionali e europee e non solo di reumatologi alla sezione riservata alla fibromialgia andai presto per trovare un posto veniva presentata come sindrome di atlante eravamo in 6 e di questi 4 erano i relatori su oltre 5.000 medici presenti come discenti ero l'unico italiano e anche l'unico svizzero e poi c'era un unico scozzese e in quell'occasione venne presentata una nuova classificazione della sindrome di atlante colui che reggeva il mondo sulle spalle sindrome fibromialgica senza depressione associata facilmente trattabile sindrome fibromialgica con depressione associata facilmente trattabile sindrome fibromialgica senza depressione associata difficilmente trattabile sindrome fibromialgica con depressione associata difficilmente trattabile quindi ne avevamo già belle quattro forme ma questa era una suddivisione che doveva soggiacere anche ad un'altra distinzione primaria, secondaria o associata ma a copenhagen si era detto che prima di fare diagnosi di fibromialgia si dovevano eliminare le malattie in grado di generare questi sintomi e quindi non poteva esistere la fibromialgia secondaria oppure la fibromialgia doveva diventare un sintomo e annullare la conquista fatta dai fibromialgici per farla riconoscere percorrendo questa strada, quella del riconoscimento si scopre che in Svizzera, che è paese estero-europeo con la sentenza del 36 2015 il Tribunale federale ha di fatto determinato la fine della prassi dell'assicurazione invalidita a Svizzera in vigore da diversi anni di negare in linea di principio il diritto ad una rendita AI assistenza invalidi alle persone affette da disturbi somatoformi dolorosi ciò nonostante non sarà facile per le persone affette da fibromialgia soddisfare i criteri per vedersi attribuita una rendita di invalidità in Italia, il 3 febbraio 2010 il senatore Pinsger presenta, durante la sedicesima legislatura una proposta di legge sostenuta da una mia relazione medica allegata con titolo disposizione per il riconoscimento, lo studio, la ricerca e la cura della malattia denominata fibromialgia o sindrome fibromialgica dimostrando di scrivere di ciò che non conosco, ovvero la differenza tra sindrome e malattia non ho mai conosciuto Manfred Pinzec che è nato a Silandro Bolzano il 5 novembre del 1959 è un politico italiano, senatore dal 2006 al 2013 ed esponente della Südtiroler Forsvallstai passa qualche anno, 18 e vengo convocato direttamente dal senato della repubblica con lettera del 16 novembre 2018 si incarico del presidente della commissione ovvero il dottor Pierpaolo Sileri che è nato a Roma il 25 agosto 1972 questo per una audizione nell'ambito dell'esame dei disegni di legge numero 299.485 fibromialgia vengo convocato il 22 novembre alle ore 14 in sede di ufficio di presidenza con i rappresentanti di tutti i gruppi presso la commissione igiene e sanità ne sta parlando in questi giorni la senatrice Paola Boldrini nata a Occhiobello in provincia di Rovigo l'8 agosto 1960 è laureata in pedagogia e alle elezioni pubbliche del 2018 è eletta senatrice ed è stata capogruppo PD della commissione igiene e sanità pubblica al senato ed attualmente è vicepresidente della commissione igiene e sanità pubblica la pedagogia è disciplina relativa ai problemi dell'educazione specialmente in quanto suscettibile di approfondimento dal punto di vista teoretico psicologico didattico ma con la fibromialgia insomma torniamo alla fibromialgia e sulle possibili cause come vengono indicate sui test e documenti che vanno per la maggiore come diagnosticarla? e mi riferisco in questo caso alla lega svizzera contro il reumatismo cause l'elenco seguente riporta le cause di fibromialgia teorizzate unitamente ad alcune breve spiegazioni esemplificative è possibile che in futuro alcune parti del puzzle si avvicinano l'una all'altra a formare un quadro complessivo e coerente anche se fino ad allora dovranno continuare a rimanere valide le teorie più diverse l'elenco non ha alcuna pretesa di completezza ne con ciò la lega svizzera contro il reumatismo intende prendere posizione a favore o contro alcuna teoria specifica causa genetica disturbo algico stress psicosomatica disfunzione mitocondriale difficili di sostanze nutritive iperacidità scorie nel tessuto connettivo e manca la neuropatica sempre lega svizzera sintomi le persone colpite da fibromialgia soffrono di dolori muscolari cronici e diffusi in tutto il corpo a sede peri articolare con comparse contemporanea su entrambi i lati del corpo sinistra e destra o in entrambe le metà del corpo sopra e sotto al cinto scapolare alla schiena al bacino alle braccia e alle gambe alcune persone colpite paragonano i dolori a quelle dovute a un intenso affaticamento muscolare mentre altri ricorrono a immagini quali quella di un cappotto o di una corazza che preme sul corpo oppure descrivono i dolori come se fossero un'emicrania dell'intero corpo nella sua forma più intensa il dolore viene percepito come bruciante, tagliente, penetrante questa è la posizione ufficiale ma in queste condizioni il fabbisogno di salute e del benessere dei pazienti che non chiamerei fibromialgici ma affetti da dolore cronico non è sufficientemente garantito per molti pazienti e non solo donne bisogna saperne di più e forse cercare anche da qualche altra parte torniamo alla diagnosi per la quale vengono proposti nuovi criteri nel 2011 MODCR che includono 19 punti dolorosi e sei sintomi autoriferiti disturbi del sonno, fatica, difficoltà cognitive, mal di testa, depressione e dolore addominale il professor Bennett e i suoi colleghi specializzati in diagnosi e gestione dei pazienti fibromialgici hanno condotto una sorveglianza multicentrica cross-sectional per validare i criteri del 2011 MODCR in un gruppo più eterogeneo di pazienti con dolore cronico quel tipo di paziente che i medici vedono ogni giorno spiegano gli autori i criteri 2011 hanno mostrato una sensibilità dell'83,5% ed una specificità del 67,2% classificando correttamente il 73,8% dei pazienti i criteri del 2013 alt cr sono invece risultati meno sensibili 80,7% ma più specifici 79,6% e hanno classificato correttamente l'80,01% dei pazienti confrontando i criteri del 2011 e i nuovi criteri del 2013 con i criteri ACR del 1990 sono emersi risultati interessanti ma i pazienti continuano a soffrire di questi dolori indipendentemente dall'etichetta che venga loro appiccicata clinimetricamente e siamo sempre in mano alla statistica un risultato notevole si poteva individuare nel gruppo di falsi positivi del 2011 pazienti con fibromialgia secondo i criteri del 2011 ma non ce l'avevano secondo i vecchi criteri del 1990 una prevalenza di uomini del 31% notevoli per portare dati statistici ai congressi ma con un nulla di fatto con le cure per i fibromialgici nei pazienti falsi positivi per i criteri del 2013 la prevalenza di uomini era invece del 34% inoltre sommando gli uomini veri positivi con gli uomini falsi positivi si ottenevano prevalenze del 16% quando applicati i criteri del 2011 e del 14% quando applicati i nuovi criteri del 2013 se si considera che secondo i criteri ACR solo il 6% dei pazienti fibromialgici erano uomini si deduce facilmente che con i vecchi criteri si escludevano con alta probabilità gli uomini dalla diagnosi di fibromialgia le donne provano più dolore degli uomini gli uomini non vengono diagnosticati ha dichiarato sempre il professor Bennett durante un'intervista rilasciata a Medscape e Medical News questo per dire che come diagnosi non è che siamo in acque tranquille andiamo oltre la presenza di un'altra malattia clinica non esclude la diagnosi di fibromialgia e forse bisogna andare a cercarla meglio un'altra malattia una ricerca statunitense ha analizzato 110 persone che hanno ricevuto una diagnosi errata di sclerosi multipla i sintomi che generano più spesso l'errore secondo questo studio sono l'emicrania la fibromialgia problemi psicogeni e neurite ottica la sclerosi multipla è una malattia complessa e può causare molti sintomi diversi esistono alcuni test per scoprire se qualcuno ha la sclerosi multipla ma nessuno ed è solo in grado di confermare la diagnosi per questo non è raro che una persona con sintomi riconducibili a questa patologia riceva una diagnosi sbagliata di sclerosi multipla quando in realtà è altro che causare quei sintomi ritorniamo allo studio statunitense in cui i ricercatori hanno esaminato i risultati di diagnosi sclerosi multipla sbagliata delle 110 persone di prima queste erano provenienti da quattro diversi centri clinici negli Stati Uniti d'America circa il 22% dei casi erroneamente diagnosticati con sclerosi multipla erano persone con emicrania altri sintomi che hanno portato a diagnosi alternativa comprendevano fibromialgia 15% problemi psicogeni l'11% e la neoremia liteottica al 6% per molte di queste persone la diagnosi non corretta è stata mantenuta per dieci anni o più e il 70% delle persone ha ricevuto trattamenti per la sclerosi multipla tuttavia nel 72% delle persone analizzate i ricercatori sono riusciti a individuare l'opportunità antecedente per avere una diagnosi corretta nel 25% di questi casi il neurologo aveva fatto una diagnosi errata il che suggerisce che sia medici specializzati che quelli generici possano essere suscettibili di errori e questo come succede per la sclerosi multipla può succedere all'inverso anche per la sindrome fibromialgica ed a me è successo nel Shetel dove ho visto una giovane con sclerosi multipla essermi inviata con diagnosi di fibromialgia e trattamento antidepressivo e la prima parte termina qui